Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video Oggi video finalmente sulla mia high care routine Che me l'avete chiesto in tantissime Tra l'altro anche un pochino tagliate i capelli Non so se si vede, ho tagliato un po' le punte perché ogni tanto lo faccio Mi chiedevo se vi piace questo mio nuovo look Con il capello un po' più corto, un po' più mosso, riccio, così sbarazzino A me piace tantissimo E vi volevo tanto tanto far conoscere questi nuovi prodotti Che ho inserito sul mio shop online www.caritashop.com E che sto amando alla follia Io li sto provando da mesi e mesi e mesi Sono una nuova uscita ma io li ho provati in anticipo Ottimi veramente e non vedevo l'ora di parlarvene Prima di iniziare a mostrarvi i prodotti ci tenevo a darvi una piccola sorpresa Dato che voi mi chiedete sempre uno sconto e dato che siamo sotto Natale Voglio far risparmiare e quindi ho pensato di darvi un codice sconto Per acquistare su Carlita Shop Online Ed è Carlita10 Se acquistate con questo codice avrete il 10% di sconto Senza spesa minima potete spendere quanto volete E avrete sempre il 10% di sconto Non solo su questi prodotti che vi mostro adesso Ma su qualsiasi prodotto presente sul sito Mi raccomando però affrettatevi perché il codice dura soltanto oggi e domani Quindi adesso che state vedendo il video che è sabato Solo sabato e domenica e basta E anche perché se volete ricevere il vostro pacco in tempo per Natale Dovete fare l'ordine oggi Affrettatevi perché se lo fate oggi non solo risparmiate col codice E poi ricevete anche il vostro pacco prima di Natale Quindi yeee regali e autoregali Questi sono belli anche come autoregali Perché è una bella linea veramente che vale tantissimo Il primo prodotto è questo shampoo di cui voglio parlare che lo amo E ve lo straconsiglio soprattutto se avete i capelli ricci e mossi Questo è uno shampoo bio sublimatore di ricci È una linea completamente biologica e naturale Senza siliconi, senza paraffina Nutre il capello Sono prodotti veramente che fanno bene il capello Li lucidano tantissimo Io mi sto trovando proprio da dio ragazzi E questo è ottimo Proprio io quando li voglio fare ricci Mi aiuta tantissimo a modellare ricci Infatti l'ho usato proprio oggi E come potete vedere dopo vi faccio vedere altri prodotti che ho utilizzato sempre oggi E questo qua lo uso quando voglio fare i capelli ricci Ve lo straconsiglio Se siete ricce, mosse, usatelo Perché veramente mi inizia a modellare riccio già dallo shampoo I shampoo sono questi qua Io li ho provati tutti Questo è uno shampoo delicato Che quindi ve lo consiglio soprattutto se avete problema di cute delicata Irritazione, prurito Oppure magari se fate lo shampoo molto di frequente Quindi volete una cosa delicata Se avete furfora secca per la cute che si desquama Questo va bene perché è molto negativo e delicato E poi c'è questo che è rinforzante Questo anche l'ho usato tantissimo Infatti è molto leggero Io conservo anche le scatole perché appunto ve li dovevo fare il video Però questo qua è leggerissimo perché l'ho usato tantissimo Questo va bene per tutti i tipi di capelli Shampoo rinforzante per capelli secchi, sfibrati e trattati E veramente l'ho adorato tantissimo Questo c'ha come tutta la linea Tantissimo gel d'olivera Estratti di semi di lino Estratti di mandorla Insomma veramente è uno shampoo riparatore Che ve lo straconsiglio Illumina tantissimo i capelli Se l'avete secchi e sfibrati provatelo perché è top Tutti i prodotti hanno anche un costo abbastanza onesto Sono prodotti professionali Questa è una linea biologica professionale per capelli Però il prezzo è abbastanza contenuto Questa è un'altra cosa che mi piace Perché comunque così sono abbordabili per tutti E poi c'è un altro shampoo Che è quello per capelli grassi Purificante antiforfola E quello ve l'ha mostrato Nancy Nel suo video Andatelo a vedere Dove anche lei vi ha dato un codice sconto E lei vi ha parlato dei diversi shampoo e balsami Che usa lei Che ha comunque questo problema dei capelli grassi E appunto quello là Io l'ho regalato a lei Perché non avendoli grassi Ho preferito regalarlo E lei è stata contentissima E si trova benissimo Quindi vedete che ci sono Quattro shampoo Che sicuramente uno O più di uno Fanno al caso vostro Anche questa cosa Mi è piaciuta di questa linea Ragazzi un balsamo finalmente bio concentrato Cioè cosa significa concentrato Un balsamo super denso Che veramente agisce Metto qua perché ogni tanto Non si vede Ecco qua si vede meglio Praticamente è un balsamo Guardate già il flacone Vi fa capire Che non è il solito flacone Quello là L'inverso no Quello messo così Col beccuccio Che sono liquidini Questo invece è molto denso E questo vuol dire Che è un balsamo Che già di per sé È molto nutriente E soprattutto è lucidante Infatti Balsamo bio concentrato Attivatori di luce Questa è la cosa importante Anche se non ha siliconi Comunque sembra un balsamo Di quelli là Che vi lucinano tantissimo I capelli Perché comunque contiene Molto gel d'olio vero Penso che il segreto Di questa linea Se è il gel d'olio vero In quantità veramente Abbondante Che quindi nutre il capello Poi c'è estratto di camomilla Di olio di argan Ci sono tantissimi estratti Che tendono a lucidare il capello A me piace tantissimo Questo balsamo Perché anche per i capelli ricci Non li appesantisce Li nutre Li districa Senza appesantirli Però non poteva mancare Una maschera Infatti Yee Yuppie Finalmente Una maschera Capelli bio Biologica Intensiva Ristrutturante Questa è veramente Una mana dal cielo Ragazzi Ve la straconsiglio Se volete Ristrutturare i vostri capelli Questa nutre tantissimo I capelli E fa tipo un impacco Io la uso Sui capelli Dopo lo shampoo La lascio stare in posa 10 minuti E poi mi sciacquo E se volete fare Una cosa ancora più Ristrutturante Potete fare anche Un impacco Pre shampoo Con questa E lasciate in posa Una ventina di minuti E poi lavate i capelli E anche una cosa in più Comunque Io faccio in questo modo Perché questa È molto nutriente Ed è molto Anche districante C'ha pure Estratti lucidanti Di salvia Varie cose Anche qua Gel d'oliver Balsamo Faccio una volta Il balsamo Una volta La maschera Cioè Praticamente Per non appesantirli Faccio un lavaggio Col balsamo Che me li lucida Me li mantiene Belli Leggeri Anche se comunque Nutriti Perché comunque Questo è un ottimo Balsamo E un lavaggio Dopo la maschera In questo modo Quando faccio la maschera Li ristrutturo di più Però se facessi sempre La maschera Soprattutto quando Li avete ricci C'è il rischio Che la maschera Magari Se la usate proprio A ogni lavaggio Ogni due o tre giorni Li può appesantire Invece in questo modo Alternando la balsamo Li mantenete sempre Leggeri E fluenti Capelli Che fanno Swish Ah Cosa importantissima Che ho sentito Facendo così Vogliamo parlare Del profumo Di questa linea Ciao La profumazione è pazzisca Stupenda Che ancora non me l'avevo detto Ma è qualcosa di sublime Che io non so Non riesco a capire Che cos'è Ma è una profumazione Che mi dà praticamente Dipendenza E ogni volta Mi voglio spruzzare Lo spray Che adesso vi farò vedere Vado in magno E me lo spruzzo Cioè perché è una profumazione Troppo bella E la cosa bella ragazzi È che se usate Shampoo Per forza uno dei quattro shampoo Deve andare bene per voi Balsamo Maschera Oppure entrambi E lo spray Adesso vi faccio vedere Perché c'è anche più di uno spray Sicuramente vi rimane Una profumazione Questa profumazione Vi rimane Alleluia Perché tanti di voi Mi dicevano Candita Ma perché La faccio lo shampoo Metto il basso Ma metto le robe Ma non mi profumano mai Invece con questi raga Anche nei giorni dopo Si sente la profumazione Finalmente Perché veramente Anche io Ci impazzivo Su questa cosa Invece così Ed è anche una bella profumazione E quindi sono buoni Non solo dal punto di vista Della funzionalità Ma anche dal punto di vista Della profumazione Che non è da poco Ragazze Prima di parlarvi Dei due sieri Che sono proprio Le cilegine sulle torte Questo Questo è un prodotto Che ho aspettavo Da anni Veramente Il termoprotettivo Per capelli Bio Che praticamente Protegge i capelli Dal calore Della piastra Del phon Del sole N'estate Da qualsiasi fonte di calore È un protettivo Un termoprotettivo Finalmente Che è biologico È naturale E non solo È molto illuminante A me piace tantissimo Io vi dico come lo uso Ragazzi Lo uso in due modi Prima di asciugare Quando sono bagnati Ne metto qualche goccina Anche perché non è Molto untuoso Quindi ne metto Un paio di goccine Proprio poche poche Sui capelli bagnati E lo metto Soprattutto sulle punte E sulle lunghezze Poi le asciugo In questo modo Il forno Non mi danneggia il capello Perché le ho protetti Con quest'olio E le ho anche nutriti E lucidati E poi Ad asciugatura finita Ne metto un'altra goccina Soprattutto se le avete secchi Ve lo straconsiglio E lo metto Sulle punte E sulle lunghezze Tipo cristalli liquidi Va Blocco quella luminosità E chiudo le squame Anticrespo E mi trovo Veramente Da Dio Ragazze Da Dio E altra cosa Amo alle chicche I due sieri Eccoli qua Allora Siero bio Ricci perfetti E siero bio Anticrespo spray Vi giuro raga Adoro Adoro troppo Gli inci sono veramente Bellissimi Sono ricchi di estratti Di sostanze Che fanno bene Il capello Spray Troppo carini A parte che Il pack è carino Anche come dia regalo Perciò vi dicevo Secondo me Tra noi ragazze No Se una ragazza Ha come regalo Ecco questi prodotti Che non si trovano Ovunque Ma si trovano Su carita shop online Shampoo Balsamo E spray Siamo solo tre prodotti Però Vi posso sfruttare Che la fate contenta Perché veramente Dopo uno D'utilizzo Si vedono Proprio i risultati Sui capelli Soprattutto se utilizzate Tutti i prodotti Della linea Ragazzi Il siero bio Ricci perfetti È una cosa stupenda Che io utilizzo Sempre quando li faccio Ricci E la cosa bella Che finalmente C'è un prodotto Per modellare i ricci Che non li secca Però neanche li unge Li appesantisce Questo qua È semplicemente Uno spray Che si vaporizza Sui capelli Si modellano E ha il potere Di modellare i ricci Quindi ravvivarli Definire i ricci Però non li unge E non li secca Perché molto spesso Si seccano Invece questo qua Li nutre proprio È proprio un bel prodottino Se voi volete Maggior nutrimento Cosa fate? Aggiungete Perciò vi dicevo prima Aspettate un momento Sprite E qualche goccina Del olio termoprotettore In questo modo Date idratazione E nutrimento E in questo modo Veramente i ricci Vengono super belli Definiti morbidi Nutriti Vi faccio vedere Perché io praticamente Questo qua ragazzi Io lo uso Anche Quotidianamente Cioè nel senso Ad esempio domani Quando mi sveglio la mattina Che ho i capelli Un po' così Ognuno per cavoli su Uno a destra Uno a sinistra Un po' così scombinati E si afflosciano Un po' i ricci Vado a spruzzare Così E poi modello Con le mani E vedete che i ricci Subito prendono vita E si vaporizzano E poi Vabbè Il profumo è bellissimo È super inebriante E poi si toglie E l'effetto crispo Si fissano E si profumano E si nutrono Io lo adoro Se li sento secchi Vi ripeto Prendo due goccine di olio E continuo a massaggiare In questo modo Ho praticamente Dei capelli Guardate come si sono ravvivati Cioè è incredibile Vi giuro 5 è top E se avete capelli ricci E mossi Dovete assolutamente provarlo Ma Poiché con tutte Siamo ricce Ma ci sono anche le lisce Oppure per quando facciamo i capelli lisci C'è anche il serum bio Anticrispo Che anche veramente È una cosa fenomenale Perché questo qua Non solo toglie L'effetto crispo L'effetto nuvoletta Ma fissa anche un po' Il capello E lo nutre Anche questo Ha un effetto Lucidante Come tutta la linea Anche qua ci sono Gel ad alevera Paristratti di piante È veramente buono E questo qua Serve proprio Per togliere l'effetto crispo A prescindere che voi Li abbiate Li ricci o lisci Potete utilizzarlo Vaporizzate sui capelli Per togliere appunto L'effetto crispo Ed è veramente Un mio prodotto E a volte Lo spruzzo Anche proprio a piega finita Metto sia quello Per capelli ricci Sia questo qua Oppure se li faccio lisci Metto solo questo qua Anticrispo E anche questo qua Potete usarlo Su questo metodo Sia prima di asciugarli Sia ad asciugatura Completata E' ottimo Se avete capelli Crespi Secchi Vi aiuta tantissimo Infatti questo serve Anche come disciplinante Quindi potete anche Sono magari un po' Anodati Un po' crespi Lo spruzzate E ve li pettinate Perché questo è anche Disciplinante Anticrispo Quindi ha una funzione Un po' molteplice È veramente un prodotto Che va bene Per tutti i tipi di capelli E' un must have Il prodotto anticrispo Ragazze Poiché io spesso Faccio anche degli impacchi Vi ho consigliato Di fare l'impacco Con la maschera No? Vi ho detto Però anche gli oli E io sempre di apiarium Mi trovo benissimo Con quest'olio L'olio di argan Veramente lo trovo superiore Rispetto a tutti gli altri oli Di argan O comunque oli vegetali E mi piace tantissimo Quando praticamente Ho una mezz'oretta Da perdere E mi devo fare lo shampoo Ma anche 20 minuti Bastano Mi unumidisco Un po' i capelli Magari ad esempio Con il siro Quello l'anticrispo Oppure li bagno un po' Con le mani Così E poi Mi cospargo di olio Poi metto una cuffietta E le lascio in posa 20 minuti Quando faccio lo shampoo Veramente I capelli Sono molto Nutriti Immorbidi Lucidi Ha un effetto Estremamente lucidante L'olio di argan Io ve lo straconsiglio Vabbè che questo È un olio di argan Questo di apiarium Che ho messo pure sul mio shop Ovviamente Perché lo amo Folemente Non va bene solo per i capelli Se lo comprate Lo potete utilizzare Anche sul viso Perché un olio spremuto a freddo Ed è puro 100% Sul viso Sul contorno occhi Ma anche sul corpo Antismagliatura Vabbè Un olio molteplici A mille usi Però io Sui capelli Che per gli impacchi Vi consiglio di provare E' veramente bellissimo Parologico Certificato Spremuto a freddo E anche questo Secondo me Come idea regalo E' troppo bello Poi c'è il contenitore di vetro E' figo proprio E' un olio di qualità Non irracidisce E' buono Comunque provatelo Perché l'olio di argan E' comunque Molto famoso Per fare gli impacchi Sui capelli Funziona benissimo Quindi ragazzi Io e i miei capelli ricci Vi salutiamo Spero che questo video Vi sia piaciuto A me è piaciuto tantissimo Farvelo Perché credetemi Cuoricino gigante Per questi prodotti Li adoro E so che in tantissime Li adorate come me Perché già li state acquistando In tantissime Su Carlita Shop Online Veramente Li avete acquistate In tantissime So che adesso Li acquisterete Ancora di più Con il codice sconto Carlita10 Affettatevi Perché veramente Stanno andando A ruba Questa è veramente Una novità Del 2017 2017-2018 Innovativa Perché Apiarum Ha fatto questa linea Per capelli bio Che veramente Ci voleva ragazze E' top Veramente Io me ne sono innamorata Quindi ve la consiglio Proprio a cuore aperto E in tanti Già mi state ringraziando Perché li state provando Vi state trovando bene Quindi se li comprate Fatemelo sapere Poi tornate in questo video E commentate Che io leggo sempre Tutti i vostri commenti E fatemi sapere Come vi trovate Io vi lascio Il link Nel box info Alla sezione Dedicata proprio A questa linea Su mio shop online Abbiamo proprio Una sezione Dedicata solo A questa linea Dove trovate Tutti i prodotti Quindi è molto più semplice Però vi ricordo Che comunque Il codice sconto E' valido Su tutti i prodotti Presenti su carità shop Quindi non vi preoccupate Prendete tutto ciò che volete Vale sempre carità 10 Vi mando Un bacio Grandissimo Grazie per aver visto Questo video Vi voglio Tanto tanto bene Lasciate Un bel pollice in su Braccio Forte 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 Ciao ragazze Ciao Buon Natale Avete visto che bello Ciao ciao Ciao